allora siamo sempre qui con il panther notate la feritoia per l'installazione della mitragliatrice e del mirino del cannoniere il cannoniere era completamente cieco a parte questo mirino uno dei difetti più gravi del panther forse il più grande in assoluto ripeto qui siamo ecco questo è il cannone da 75 mm arma assolutamente eccezionale indubbiamente ma l'artigliere era totalmente seco se non per il suo mirino eccolo qua l'ennesimo sguardo sul treno di rotolamento a ruote gemellate notate notate già il fatto che anche qui le ruote del treno mediano siano incompatibili con le ruote del treno con le ruote esterne e idem per quelle più interne ancora signori il panther forse il migliore della famiglia dei filini ma tutt'altro che un carro perfetto non è un'altra cosa non è un'altra cosa non è un'altra cosa non è un'altra cosa non è un'altra cosa